Regalare momenti di spensieratezza ed allegria ai bambini ricoverati. E' questo l'obiettivo del progetto intitolato Regaliamo un sorriso, giunto ormai alla sua quindicesima edizione e organizzato dall'Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno e dalla Polizia di Stato, che ieri mattina ha consegnato delle uova pasquali ai bambini del Santo Buono Pausilli Pondi Napoli. La manifestazione, nata nel lontano 2003, è coordinata dal responsabile provinciale dell'Associazione, dottor Giovanni Rapicano. Noi ogni anno facciamo questo tipo di attività, sono ormai 15 anni, nella quindicesima edizione che la nostra associazione, insieme e in collaborazione con la Polizia di Stato, perché la nostra associazione è l'Associazione Ministeriale ADMI, l'Associazione Dipendenti Ministeri dell'Interno, insieme alla Questura di Napoli e alla Polizia di Stato riusciamo a regalare comunque un sorriso per i tanti bambini che sono ricoverati, purtroppo, nei reparti del Santo Buono Pausilli Pondi. Speriamo di trovarne ogni anno di meno. Questo è il nostro augurio. Ascoltiamo Carmine Pecoraro, primario del reparto di nefrologia e dialisi pediatrica dell'ospedale Santo Buono Pausilli Pondi, e Fabrizio Cocchiara, ispettore capo della Polizia di Stato. Sono un'iniziativa molto importante perché non fa praticamente sentire i bambini isolati in un contesto diverso da quello di casa, ma gli fa sentire il piacere del calore della famiglia che si esprime attraverso il dono dell'uovo di cioccolato che fa Pasqua, quindi fa famiglia, fa serenità. Siamo qui presenti non soltanto con l'Associazione Indipendenti Ministero, anche su disposizione della direzione ospedaliera Santo Buono Pausilli Pondi, ma anche con personale proprio in servizio qui al commissariato Vomero e col gruppo sportivo Fiamme Oro, per donare ai bambini una giornata un momento di felicità.